Grazie a tutti. Ciao Marilena, è un piacere vederti, stiamo registrando questa telefonata, siamo in tempi di coronavirus, stiamo registrando per Bologna e Lettere e siamo molto felici di averti, anche se sarebbe stato molto più bello vederti dal vivo, ma comunque ci fa piacere lo stesso e presentare questo libro che è uscito di recente in Italia per Interno Poesia. Il libro si intitola Osso Sacro ed è un libro molto intenso, stavo chiacchierando prima con Natasha che mi diceva che è un libro scritto a caldo, in parte subito dopo la morte del padre, e in parte è stato scritto successivamente, ma è comunque un libro che affronta il tema del lutto. E' anche un libro che ha delle metafore belliche, è un libro di guerra, perché è un libro in cui c'è veramente un corpo a corpo con la fatica, la ferita, della perdita del padre, e c'è anche un corpo a corpo della poetessa, c'è anche un corpo a corpo proprio di Natasha con il mondo. E' come se il padre l'avesse, lei dice a un certo punto, il mio padre mi ha chiesto di rimanere nel mondo, il mio padre mi ha chiesto di vivere, e però la vita sulla terra, la vita dopo la morte diventa una roba veramente, una cosa, un'esperienza, è veramente un'esperienza molto faticosa. Infatti il libro è pieno di queste metafore appunto di guerra in cui non c'è un adattamento, non è un adattamento all'esperienza di tutti, non è un'esperienza possibile, non è una cosa che può darsi nella realtà. E l'altro campo semantico, il resto è tutto sulla perdita, nel senso che è un libro non solo sulla perdita, ripeto, del padre, ma anche sulla perdita di se stessi. E la lingua registra questa cosa, cioè la lingua, siccome è anche un, poi ne parliamo meglio con Natasha, il libro è un'autotraduzione, questa autotraduzione è in effetti molto, è piena anche di cose curiose, di inciampi, di lapsus, di cose che appunto traducono proprio in maniera molto, molto evidente, proprio in maniera quasi fisica, lo spossessamento e la perdita. E quindi anche linguistica ovviamente, quindi non solo del corpo, ma anche della lingua. Ci puoi dire tu due parole sul libro? Sì, come dici giustamente tu, è un libro sulla perdita, è fatto della perdita. Io mi sono posta a questo obiettivo, non volontariamente, non ho voluto scrivere un libro a caldo, ma è andata così, perché sentivo un'urgenza di scrivere un libro sulla sconfitta umana. Volevo, come se fossi uno scienziato, come se fosse una chimica che lavora in un laboratorio, volevo sezionare il dolore umano e volevo dare voce al dolore umano incarnando gli organi del corpo umano come i più altiparlanti, i più grandi interlocutori di questa poesia. Se potessi descrivere l'urgenza per cui ho scritto questo libro, ti direi che sentivo come se dentro il mio corpo ci fossero delle vene, delle arterie, dei capillari che volevano uscire, che volevano ingoiarmi. E quindi io per contrastare questo impulso interno, ho scritto questo libro per mitigare questi baratri che nascevano affamati dentro di me. Volevo scrivere semplicemente un libro sulla sconfitta anche storica dell'umanità, sulla disperata bigliaccheria e paura dell'essere umano di dare sempre la colpa agli altri, di vedere il male sempre altrove. Per questo faccio anche riferimento storico alla Shoah, alle guerre, dici giustamente tu, ma anche al falimento di un sistema sanitario nei paesi post comunisti come lo è nella mia patria, Macedonia, che ha prodotto morte di tantissime persone. Una critica anche della politica delle organizzazioni internazionali come quella della salute, dell'Unicef. E adesso stiamo vedendo con il coronavirus che ha fallito la solidarietà. Il mondo è con esso globalmente, ma quello che manca è questa solidarietà planetaria. Quindi è una critica anche, diciamo, un grido, non più che una critica, è un grido contro l'efemerarietà della vita umana. Ma anche la vita dei senza tetto, la vita delle persone, dei profughi, la vita precaria e anonima di quando sei sulla frontiera. Ognuno di noi ha provato questo sentimento di vuoto assoluto, di vuoto ontologico, quando deve essere ispezionato, quando ti mettono le mani anche degli organi intimi. Quindi questa ispezione del corpo umano per me era una sfida e come dice Octavio Paz, la poesia non è uno strumento della verità, ma è una risurrezione delle presenze. Volevo vedere quali presenze potessero uscire dalla mia poesia e come dice Beidau, la poesia è piantare un seme nella ferita aperta. Volevo vedere cosa potesse uscire da questa ferita. Questo era il mio impulso. E perché l'osso sacro? Perché le ossa sono, ci sono appunto, il tema delle ossa è in tutto il libro. Come mai fare l'osso sacro? E questo è un altro falimento, un'altra sconfitta dell'autotraduzione. Perché? Perché nella lingua macedone noi per dire osso sacro diciamo Krstakoska, che vuol dire l'osso della croce. Nella lingua macedone questa T è stata omessa per avere una fonia più, insomma, più accettabile. Ma io l'ho riportata facendo un errore grammaticale in macedone perché volevo che questa T significasse la croce. Quindi ho scelto questo titolo per implicare questa croce, perché mio padre, per esempio, ha perso la fede prima di morire. Lui che mio nono era comunista, hanno litigato, si sono picchiati perché mio padre credeva in Dio. Alla fine della vita ha perso la fede, no? Quindi ho scelto questo osso del nostro corpo anche perché il punto nevralgico rappresenta la colonna, la spina dorsale. E quindi il padre, quello che ti tiene in vita, quello che ti dà vita. Ma anche il punto nevralgico dove passano tutti i nervi cardinali del nostro corpo. Dove si agganciano, non si dice così in italiano, come ganciano, inganciano tutti i nervi, no? E dove si trova anche l'organo più importante per una donna, no? L'utero che sta inchiodato tra l'osso sacro e l'organo che dà vita, no? E quindi gioca anche sulla maternità, no? Una poesia sull'aborto, sul rifiuto di essere madre, no? Quindi è proprio un libro, un organo che per me è portatore di dolore. Poi anche per un fatto molto bufo che una volta sono caduta sulle scale a Parigi e sono rimasta paralizzata per alcuni mesi perché avevo fatto male all'osso sacro. Quindi no, questo vabbè, questa è una varzelletta, però c'entra comunque. Eh no, direi che è significativo. Sì, ero molto traumatizzata perché diciamo molto plasticamente il mio movimento era limitato, no? Durante questi mesi. E avevo questo dialogo intimo con l'osso sacro, sì. Allora, siccome non abbiamo più tantissimo tempo, leggi le poesie che hai scelto? Certo, allora leggo questa poesia che avevo scritto a Gerusalemme, dove ci siamo, in Israele, dove ci siamo conosciute io e te, due anni fa, al festival di poesia, che si chiama Il muro del pianto, che è dedicato a mio padre. Scrivo un messaggio a mio padre, su un foglio rosa. L'inchiostro si cancella dalle mie lacrime. Ma io scrivo di nuovo. E di nuovo bolle il nucleo ardente. Impaziente lo infilo al di là, nella riva opposta, nel muro del pianto. Esso cade. Ma io lo sollevo. E lo infilo di nuovo. E mi tira di nuovo il vuoto dentro di me. Non è sicuro questo posto. Ma io voglio esserci alle due rive, dove solo pochi sono stati. Per guardare verso di te. Ferma in un posto. Ha solo un passo dietro nel tempo. Dietro me stessa. Anche se lo so. Quando guardo nell'abisso, anche esso guarda in me. Ecco. Questa è una. Adesso leggo l'altra. Sì. E l'altra avevo scritta proprio un anno fa a Roma, il 4 aprile. Si chiama Bagaglio perduto. E l'avevo scritta mentre ero nel bario, nel bario, nel ghetto, nel quartiere ebraico. Voglio essere da sola. E lontano dalle grida vuote e delle menzogne molli. Ho perduto i miei bagagli sulla pista. E voglio che non mi cerchino gli operatori aeroportuali per restituirmeli. Non ho paura del giorno che tramonta dietro il mare di fulmini e di parole. Non ho paura della città che soccombe nel mio letto alberghiero. Seppure a un passo da me uccidono una donna da testimone, bruciano i focolari degli zingari, i cormorani alla pesca ingrenati devorano la prede come tutti noi abbandonati. Non mi spaventano gli arabeschi notturni del silenzio. L'incomunicabilità impenetrabile della separazione. L'eco dell'oscurità nella conversazione che evitano tutti. Posso sia uscire che entrare nella non espressività. Sono cresciuta nelle stanze spaziose della freddezza amorosa. La mia infanzia è stata timida e solitaria. Non mi spaventa il non avere niente, il rimanere a vuoti. Voglio dormire da sola e da sola voglio secernere la melatonina. E da sola sveglia posso bersagliare il mio sguardo verso la finestra dei saluti ipocriti, verso l'alba dell'irrazionalità, verso il terrore del giorno. E seppure quando avverranno le onde del dolore per dirmi che non ci sarà più nulla di quello che ho segnato, questa solitudine non importa dove mi porterà. In me la vita fervida vuole troppo, scoppia, esplode, brucia, mi accecca. Quindi una poesia romana. Grazie. Facciamo così, speriamo di vederci presto in Italia. Sì, lo spero tanto. Grazie a tutti voi. Grazie a te. Ciao. Ciao.